Con una carica inesauribile e una energia che sprizza da ogni poro, sapete già di chi stiamo parlando. Il suo contagioso umorismo e la hilarità coinvolgente travolgono il pubblico, senza mai essere eccessivi, ma al contrario, riescono sempre a catturare l'attenzione su di lui. Sto parlando del grande Gianni Morandi. Recentemente, Gianni Morandi ha condiviso un annuncio che ha commosso tutti i suoi fan, riguardante sua moglie, Anna. Anna è una donna attiva nel settore informatico e lei è l'attuale moglie del cantautore che ha interpretato In ginocchio da te. Nonostante sia 13 anni più giovane di lui, i due si sono sposati nel 2004 e la loro unione è stata così forte da renderli insiparabili. Durante un'intervista, Gianni ha raccontato con emozione il giorno in cui ha incontrato Anna per la prima volta. Fu un colpo di fulmine che lo colpì quando la vide sul campo di una partita di calcio organizzata per beneficenza. Da quel momento, il loro legame si è rafforzato e Anna è diventata il suo punto di riferimento, una presenza imprescindibile nella sua vita. Gianni Morandi si sente estremamente fortunato ad aver incontrato Anna e, anche dopo 25 anni, il suo amore per lei è ancora intenso come il primo giorno. Le sue parole affascinanti e commosse dedicate gli dimostrano quanto sia profondo il loro legame e quante emozioni Anna susciti in lui. È inevitabile che davanti a tali parole affettuose, qualsiasi donna si sciolga e rimanga colpita dall'intensità e dalla bellezza del loro amore. Vi piacciono insieme? Grazie per aver guardato questo video, facci sapere cosa ne pensi nei commenti, metti mi piace al video per sostenerci, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video.